Questo gol di Antonio Martinello permette alla Urbs Regina di vincere al Simonetta Lamberti e rallenta la corsa della Cavese ai playoff del campionato di Serie C. Un gol da attaccante opportunista che sa sfruttare l'occasione propizia sul calcio di punizione battuto da lontano da Strambelli. Baclay disturba il difensore Silvestri in area quilotta e consente al centravanti Aversano di girarsi e trafiggere De Brasi. Lui non esulta. Finirà 0-1, sconfitta sfortunata della Cavese. Il rammarico da parte di molti tifosi di Cavale Tirreni c'è, soprattutto perché lo stesso Martinello, che era stato il trascinatore dei metelliani nello scorso campionato di Serie D, sarebbe potuto tornare a giocare in bianco-blu in gennaio. Poi non se n'è fatto nulla per la distanza tra domanda e offerta e si è trovato proprio da avversario a segnare il suo primo gol in una prima squadra in un campionato professionistico. E avete visto com'è il destino a volte. Nella Cavese gioca il trio d'attacco Rosafio-Fella-Sainz-Mazza, mentre Nunziante, premiato con la fascia di capitano per aver acquisito lo status di professionista, si cura della fascia destra, con Pugliese a centrocampo. Regina con il 3-4-2-1, arbitro il signor Arace di Lugo. Dopo un dubbio contatto tra Nunziante e Solini in area calabrese, proprio in avvio, la Cavese prende l'iniziativa. Pugliese partecipa al gioco continuamente e spesso diventa la quarta punta. Difatti a diciottesimo proprio lui offre un bel pallone a Fella che sottomisura impegna Confente. I calabresi per scelta aspettano le mosse degli avversari e al ventiquattresimo Sainz-Mazza, ex di turno, fiocca un tiro dalla distanza che Confente respinge bene. Al ventisettesimo c'è un'occasione anche per la regina. Lancio per Tulissi che parte da posizione regolare e mette al centro. Siebert calcia però alto in maniera clamorosa. Si finisce con un'occasione per Fella che calcia da lontano costringendo ancora Confente in angolo. Nel secondo tempo la regina continua ad attendere, ma Bellomo effettua una bella conclusione su punizione. Palla che però si abbassa un po' tardi e al cinquantaseiesimo Gasparetto commette un errore sul disturbo di Fella. Interviene Rosafio che da lontano però colpisce il palo. La porta a Maranto è ancora salva. La cavese si espone ai contropiede degli avversari che, lo vedete, sfiorano un gol con una ripartenza di Tulissi, il quale anziché tirare decide di passare palla al compagno, ma al sessantaseiesimo si lamentano i calabresi per un sospetto intervento di Ferrara su Kerouen sulla linea del lato corto dell'area di vigore. Non c'è penalty, solo rinvio dal fondo. Proteste. Anche Favasuli impegna Confente al settantanovesimo di gioco, poi entra nella regina Martiniello al posto di Zibert e proprio lui decide il confronto al novantesimo minuto, nella maniera che vi abbiamo descritto in apertura. Vincerà la regina e a fine gara la tifoseria di Cava contesterà la propria squadra. Così la regina rientra in corsa per i playoff e la cavese resta a quota 40, a meno 4 dal decimo posto che dà l'accesso agli spareggi. Mercoledì si torna in campo contro la Viterbese Castrense allo stadio Rocchi.